Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e benvenuti in questo nuovo video! Oggi finalmente si apre Stili di Lotta, la nuovissima espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon che uscirà ufficialmente il 19 marzo 2021, ovvero a giusto un mese dall'uscita di Destino Splendente. Allora, se siete interessati al video dedicato a tutta la review di questo set, mi raccomando, tornate sul mio canale che sarà disponibile questa domenica e per adesso, come di consueto, ci andiamo ad aprire un intero pacchettino del kit, insomma, pre-release più le tre bustine omaggio. Allora, già le artwork mi piacciono davvero assai. Qui non vediamo il secondo Urshifu che mi immagino troveremo qua dentro, quindi senza aspettare ulteriormente andiamo subito a spacchettare. Allora ragazzi, come ben sapete, all'interno di questo kit pre-release ovviamente ci sarà una tra le quattro carte promozionali di questa espansione. E beh, non so se lo sapete, ma qui dentro tra le quattro possibili c'è una carta che spicca tra tutte che è l'Aundum. Quindi ragazzi, ovviamente non lo troveremo perché sappiamo benissimo quanto sono fortunato o meno, qui devo continuare di nuovo a tagliare. Però ragazzi, insomma, è giusto per dirvelo. Fate attenzione che quella carta sicuramente si piazzerà a uno scalino più alto delle altre tre. Bene, plastichina levata, andiamo ad aprire e direi che pian piano... Mi sa che l'abbiamo già visto, quindi... È l'Aundum! Grande, 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 grande! Ve l'avevo detto, ultimamente secondo me sta veramente girando un po' la fortuna. Ragazzi, scusate, qui fermo un attimo solo per ricordarvi che ho appena detto che la fortuna sta girando. Attenzione! Questa è sicuramente la promozionale di pre-release più importante del set. Quindi già si parte col piede giusto. Ma procediamo a vedere cosa abbiamo qui dentro. Abbiamo, mi immagino, il Depliant sul come costruirsi il mazzo per giocare appunto ai pre-release. Ovviamente in piena pandemia i tornei pre-release non ci sono. Qua c'è tutta la lista del set. E ovviamente andiamo alla ricerca della quarta artwork che non avevamo ancora visto. Quindi, ok, li sistemiamo così. Qui ci mettiamo il secondo Empoleon, Urshifu ed ecco qua la quarta artwork che ci mancava. Quindi all'interno avevamo un art set completo con l'ultimissimo Tyranitar. Allora, allora, allora. Io voglio partire da... partire da... direi un Urshifu. Giusto perché è un po' la... è un po' sicuramente il Pokémon su cui ruota tutta questa espansione. E all'interno, ragazzi, di questo set dobbiamo sperare di riuscire a prendere una delle carte alternate art. Che sì, sono decisamente molto molto belle. Mi viene in mente il Tyranitar, mi viene in mente ovviamente anche l'Empoleon che abbiamo qui. Ma poi ci sono tantissime versioni, tantissime varianti ecco, di Urshifu V e Urshifu V-Max. Quindi insomma, un set... beh, insomma, tornate domenica per il video completo su tutti i miei pensieri di questo set perché ce ne saranno un po' di cose da dire. Comunque, si parte con il nostro primo pacchettino di stili di lotta. E abbiamo un Gurdur, Torre Buio, Colpo Singolo, la nuovissima meccanica introdotta da questo set. Paragli, o Purugli, Baltoi, Mienfu e questo qua invece è il colpo rapido. Pacirisu, sempre sempre molto molto bello. Tepig, bellissima artwork con il colpo singolo. Bronzor. Abbiamo un Cimecio, Reverse e dietro... E dietro... dietro c'è un Salazzol. Dietro c'è un Salazzol raro, non holo. Che comunque, da quello che ho capito, questo secondo attacco è abbastanza interessante a livello proprio di gioco competitivo. Ma mi sto facendo un due idee anche su quel lato e scoprirete perché. Bene, primo pacchetto fatto e adesso andiamo sull'Empoleon. Vediamo un po' cosa... partiamo con già un doppione, fantastico, 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 va bene così. Ok, ok, ok. Uno, due, tre e quattro. E qua c'è un Energia Fuoco. Invece no, un Energia Lotta che ci sta benissimo con il tema di questo set. Porugli, quindi la nostra seconda doppia. Pazzesco ragazzi, su 163 carte più le fuori serie abbiamo già trovato due doppie. Mmm, non tanto bene. Whipping Bell. Baltoi, ecco la nostra doppiona. Mienfu, un'altra doppia. Ragazzi, ma come le fa? Un'altra doppia ancora? Non ci posso credere. Un'altra doppia ancora. Ragazzi, ma... Ma che problema c'è? Ok, sono un po' scioccato, eh. Perché anche questa è doppia? È un pacchetto identico. No, ok, Fearow è cambiato e vediamo se il retro... Abbiamo un altro bordo giallo, però abbiamo un Phalanx colpo rapido. Apprezzabile questa artwork, anche se come Pokémon... Lo devo ancora capire, insomma, questo qui, ecco. Mettiamo nella nostra pila di carte e ovviamente ci rimane l'ultima artwork doppia da aprire, che è il Tyranitar. E se qua dentro ci troviamo l'alternite art di Tyranitar, si fa pesta, si fa pesta. Ok, questa non è una doppia, grazie a Dio. E... Facciamo il trick. Uno, due, tre e quattro. E vedo già dei problemini su questa carta. Dei puntini bianchi. Quindi spero, spero, spero che non sia una carta importante, ecco. Abbiamo un'energia acqua, abbiamo un Durant, Gurdur, doppione, Torre Buio, mi pare anche questa, doppia, Timbur, Tepig... No, ragazzi, abbiamo trovato tre Tepig in tre pacchetti. Ponyard, Cacnea, Shinx colpo rapido, Torre Acqua, questa ci mancava, e... Con del Cur... Con... Con Keldur. Raro, non holo, quindi va bene, dai, ok. Abbiamo capito che la mia fortuna si riconferma per questo set, salvo comunque la... sicuramente, insomma, la carta pre-release più apprezzabile. Dunque, partiamo dall'unico pacchettino, invece, che non avevamo ancora aperto. E questo è il... è l'Urshifu colpo... colpo rapido, colpo singolo. Vediamo che c'è scritto qua. Il rosso è colpo singolo, il rosso è colpo colpo singolo. E vediamo già una carta che non avevamo visto prima. Molto, molto bene. Via di qua. E abbiamo uno, due, tre e quattro. Questa è un'energia psico. No, un'energia buio. Va bene lo stesso. Abbiamo Bruno colpo singolo. Gliscor. Piupa. Cubone. Remoraid colpo rapido, che si evolve in un'altra carta molto, molto interessante, che è l'Octillery, a livello proprio di giocabilità. Vedete che sto studiando. Fomantis. Slowpoke di Galar. Bellino. Ma anche il colpo singolo, che non poteva mancare. Rolicoli reverse e... Boltund, che apprezzo molto come Pokémon e anche come Artwork. Ma questa è la nostra quarta rara nonolo di fila. Non tanto bene. Non tanto bene. Devo proprio dirvelo. E allora ricominciamo con nuovamente un altro Urshifu. Vediamo un po'. Almeno abbiamo un Glamiao, che l'abbiamo già visto, che ci manca. Uno, due, tre e quattro. E qua dietro abbiamo una Energia Elettro. Invece no, è lo Psico che avevo chiamato prima. Firo, che avevamo trovato in Reverse. Itmor. Esther, che c'è in versione Full Art. Glamiao. Timbur, già visto. Ponyard. Cacnea. Shinx colpo rapido. Bronzog reverse. E... Un altro bordo giallo. Abbiamo un Lurantis. Interessante Artwork. Ok, ci mancano due pacchettini. Due pacchettini per trovare qualcosa. La vedo molto molto dura. Ovviamente io qua avevo le mie sleeve, ma a quanto pare non ci serviranno. No, dai, dai. Aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. Allora, via qua. Uno, due, tre e quattro. E abbiamo un Energia Fuoco. E questa è l'Energia Elettro di prima. Luxio, bellissima. Colpo rapido. Grampig. Questo qua sarà Comiglia, infatti. Fure di Fuga. Glygar. Spoink. Shinx. Aundur. Colpo singolo. Bella Artwork. Che si tira dietro un masso gigantesco. Ponyard. E Lektabuzz. Guardate che bello questo Lektabuzz. E dietro... Un Tapu Bulu. Almeno un'olografica. L'abbiamo tirata fuori. L'abbiamo tirata fuori. E sapete che vi dico. Io questa la slivvo solo perché almeno... Così non le ho prese per niente. Anche se ovviamente sì, abbiamo l'ultimissimo, l'ultimissimo pacchetto. Porca miseria. Ok. Slivata. La lasciamo qui assieme al nostro Aundum. e abbiamo il pacchetto della verità. Ultimo Tyranitar e si vola. Oppure insomma... Va bene, no dai, non devo partire sconfitto. Non devo partire sconfitto. Ultimissimo trick per questo video. Uno, due, tre, quattro. E questo è... Questo è un... Un'energia... Erba. No, energia lotta. Bruxish. Blocco oggetti. Level Ball. Slopock di Galar. Manca il colpo singolo. Orsi. Honedge. Cimecio. Undor Reverse. E l'ultima rara è... Un Aegislash. Ragazzi... Che dire ragazzi? Diciamo che ho avuto molta fortuna con Destino Splendente. Magari ne aprirò... Aprirò un altro set allenatore fuoriclasse, molto probabilmente. Ma per oggi dobbiamo accontentarci della promozionale pre-release più ambita, che onestamente mi va benissimo così. Quindi ragazzi, vi ricordo che questa domenica uscirà il video che contiene tutti i miei pensieri su questa espansione. Piccolo spoiler. È un'espansione interessante e vedrete perché. E se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarvi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make a Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!